lo sbatti lo sbatti dopo aver fatto uno scherzo a mia madre è andato male e dopo lei avermi minacciato di denunciarmi se l'avessi messo su youtube ecco donna mamma è un coglione dopo aver smattato signore perché il computer si spegneva quando io stavo registrando mi si spegne il computer mi si spegne vaffanculo asus di merda cinesi del cazzo ho detto calmo giorzo prendiamo in mano la cosa più semplice call of duty advanced warfare visto che molti di voi mi avete chiesto di tornare su call of duty eccoci qua su call of duty advanced warfare gioco delle armi la nuova moralità che ho visto perché ve lo giuro è la seconda partita che faccio la prima con la che ho cercato di registrare ma che stranamente il computer mi si è spento mentre stavo per oddio per registrare ma tu levati dal cazzo mamma mia io 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 mi do all'ipica ok che è che c'è lì oddio mori mamma mia sto diventando un flamenco vaffan brodolo ho le allucinazioni visive eccoti mamma mia la mano del vincitore non si non si toglie mai ma dove vuoi andare sei contro joe un gtf oddio ho parlato ok magari cambiarmi arma cos'è questo un pisellone baby ma muori ti ho ucciso anche i genitali fratello e muori tu magari sai non faresti niente di mal ma vaffanculo a te e al cazzo tuo ma questi qua muoiono magari qualche volta eccoci c'è 17 colpi per ucciderne uno oddio cos'è sta roba qua che capperi è che cosa era mamma mia sto diventando più forte di fratello tello nel culo un pisello face joe la vendetta mi danno i piselli adesso per giocare guardalo guardalo no no l'avevo preso me l'ho ucciso prima sto stronzo ci sono rimasto di un male fanculo a te fanculo a te fanculo a te fanculo a te muori e muori stop 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 mi sei bloccata la videocamera ragazzi io ve lo giuro mi sei bloccata la videocamera ragazzi ma mamma porca troia in calore io ve lo giuro ragazzi non lo rifaccio più perché è la sesta volta che lo rifaccio di fila la sesta volta io non c'ho più tempo sono già le 6 se devo anche montarlo non ce la farò mai a farlo uscire per le 8 vi giuro scusatemi se a metà la videocamera è andata a puttane ma perdonatemi ho anche vinto sarebbe stato un epic reaction in facecam ma non è andata proprio così ragazzi spero che comunque il video vi sia piaciuto cercherò di rimediare in questi ultimi giorni facendo qualcosa di un po' diverso perché ho zero idee quindi scrivetemi sotto nei commenti qualcosa che vi potrebbe interessare vedere appunto sul mio canale lasciatemi un commento davvero ragazzi chiedo il vostro aiuto perché in questo periodo con lo studio sono davvero messo malissimo perciò ho anche poco tempo e devo dire la verità anche poca voglia perché sono proprio stanco la parola giusta è stanco quindi spero che il video vi sia piaciuto ragazzi vi prego lasciate un bel mi piace qui dal vostro Giooscemo di professione è tutto pace amore e gioia infinita ho passato l'intero viaggio di ritorno da Vienna 10 ore di pullman 10 ore di pullman a sentire i miei compagni a fianco che continuavano a discutere se questo vestito fosse blu e nero o oro e bianco i The gu Ante grazie a tutti grazie a tutti i